Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti voi. Noi come sempre ci troviamo al campo sportivo Mulinda Coia Santa Cristina, quest'oggi sotto un sole meraviglioso. Questa mattina i ragazzi si sono allenati in piscina e in palestra. Qui al campo c'erano Carolinette che continua con il suo programma, Bella Sincone che invece è impegnato con le terapie e anche Nicola Rauti per un lavoro personalizzato dopo il trauma contusivo al ginocchio sinistro rimediato ieri durante l'amichevole e confermato questa mattina durante le visite mediche. Ieri infatti c'è stata la prima sgambata, la prima uscita ufficiale per il Torino, una sessione di allenamento che serve al tecnico Ivan Iuric per misurare, per testare i suoi ragazzi su alcuni aspetti. Lo abbiamo visto molto attento qui dalla panchina dare continuamente consigli alla squadra e tra coloro che ci hanno mostrato di più la loro personalità in partita sicuramente Alessandro Buongiorno che nel primo tempo ha anche provato, tentato due conclusioni di testa. Quest'oggi Alessandro si è concesso ai media qui presenti e anche ai nostri microfoni. Vogliamo farvi ascoltare le parole del classe 99 difensore cresciuto a Panettoro. Eccole. Ciao, sto bene, questi primi giorni di ritiro sono sicuramente molto impegnativi, lavoriamo molto, ci diamo da fare, però siamo bene, siamo uniti, siamo carichi, quindi stanno andando bene direi. Tu hai già avuto modo di parlare con Ivan Iuric, magari a quattro occhi? Sì, il mister molto spesso si ferma a dare consigli, ad aiutarmi, ma ad aiutare in generale un po' tutti, sia dentro sia fuori dal campo. Ecco, mi collego allora proprio a queste chiacchierate, ma non solo, anche agli allenamenti, perché quando si comincia una nuova stagione, c'è un nuovo mister, quindi anche un nuovo staff, quali sono gli accorgimenti che tu utilizzi per partire subito con il piede giusto e mostrare anche le tue qualità? Beh, sicuramente dare il massimo impegno, massima concentrazione, dimostrarsi attenti alle richieste che vengono fatte dall'allenatore, ma poi da tutto quanto lo staff, e appunto impegnarsi. In questi giorni stiamo intervistando i tifosi che sono venuti a seguirvi e tutti quanti ci stanno facendo notare che gli allenamenti sembrano molto tosti, molto fisici. Ecco, ci puoi raccontare che tipo di allenamenti sono? Sì, lavoriamo molto duramente, come dicevo prima, sia sulla resistenza che sulla forza, diamo anche molta intensità durante possessini, partitelle. Ogni cosa che facciamo, ogni allenamento che facciamo, qualunque sia il tipo di allenamento, cerchiamo di dare il massimo dell'intensità possibile per arrivare poi al meglio quando inizierà il campionato. Parliamo un po' di orgoglio Granata, di senso di appartenenza, chi meglio di te ce lo può raccontare, ha indossato questa maglia da sempre e hai una famiglia anche Granata. Quindi in questo momento come ti senti e cosa ti dicono in famiglia? Beh, sicuramente motivo di grande orgoglio essere cresciuto nel Toro, fin da bambino, giocare per la squadra della mia città. La mia famiglia è sicuramente molto contenta per quello che sto facendo, come sta andando e anche perché appunto sono tifosi del Toro. Noi in ogni intervista parliamo anche dei tuoi studi, ci hai già raccontato che stai studiando Economia, che i tuoi studi vanno benissimo, sei al secondo anno, ma ti chiedo come passi se hai ancora del tempo libero? Eh sì, io come hobby mi diverto a giocare a scacchi, gioco con amici ma anche con compagni o per esempio con il dottore ci troviamo sempre a giocare a scacchi, quindi mi diverto così. So che hai un soprannome qui in gruppo, vero? Sì, scherzosamente mi chiamano Mike, riferimento a Mike Buongiorno, qualcuno sia dello staff sanitario ma anche ai compagni in maniera scherzosa mi chiama in questo modo. Mi sembra di capire che il gruppo sia molto unito, affiatato? Assolutamente sì, siamo uniti, ci stiamo impegnando sempre di più per creare coesione di gruppo, per creare unità, perché comunque quello che è importante è essere amici fuori dal campo per poi riuscire a battagliare dentro. Se parliamo di amicizia parliamo anche dei tuoi più cari amici, visto che so che sono degli appassionati di fantacalcio, immagino che quindi vogliano averti tra i loro acquisti. Dopo la partita di ieri ti abbiamo visto in un primo tempo in cui ci hai mostrato la tua personalità, insomma immagino che quest'anno faranno a gara per comprarti? Sì, molti mi hanno scritto, sia amici di Torino sia amici di Trapani che ho avuto quando ho giocato in prestito, mi hanno scritto, mi hanno chiamato dicendomi guarda che il prossimo anno ti compro, ti acquisto al fantacalcio e guai a chi ti tocca, quindi io di questo sono contento e spero di fare bene anche per loro. Ecco, ricollegandoci però appunto al tuo ruolo in campo, ieri ti abbiamo visto con due colpi di testa che potevano portare anche al gol. Sì, assolutamente, il mister ci chiede di dare molta intensità, di andare in avanti per riuscire a creare superiorità numerica davanti, dare una mano agli attaccanti e in qualche modo cercare appunto anche di fare qualche gol con i difensori. Alessandro, noi ti auguriamo buon lavoro. Grazie mille. Oppure ti saluto, ciao Mike. Ciao, grazie. Dopo l'intervista Alessandro Buongiorno ha raggiunto il gruppo proprio qui al campo sportivo perché per cementare il gruppo si è optato invece del consueto pranzo in hotel per una grigliata sotto il cielo azzurro. Questo pomeriggio i ragazzi sono liberi anche di godere delle bellezze della Val Gardena ma domani ovviamente si torna in campo mattino e pomeriggio e noi torniamo a raccontarvi quello che succede qui dal ritiro in Val Gardena. Io vi saluto perché da Santa Cristina per oggi è tutto.